Hi guys! Benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video un po' diverso dal solito, un po' tanto. Andremo a truccare un ospite speciale che non vede l'ora di essere qui negli studios di casa mia e Freme non vede l'ora di poter essere truccata qui da me ma l'accoglieremo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui ragazzi con il nostro ospite speciale. Lei è Rodolfa, ve la presento. È una ragazza molto sensibile, empatica. Anche se attualmente penso si sia ritirata appena da un rave. Non è in nessun stato migliore, però siamo qui per questo, per andare a migliorare il suo aspetto. Tu che dici Rodolfa? Perfetto, è stata molto molto chiara. Noi iniziamo subito. Ora, innanzitutto, dopo esserci ritirati da un rave party, ricordatevi di struccarvi sempre. Non fate come Rodolfa che questa notte era talmente stanca che ha deciso di non struccarsi. Mi raccomando ragazzi, struccatevi sempre perché se no la mattina il risultato sarà esattamente questo. Quindi noi strucchiamo Rodolfa e ci rivediamo subito qui. Ok, eccoci qui dopo aver struccato Rodolfa. Adesso non so se sembra più uscita da un rave oppure da una festa di Halloween andata molto male. Mi sa che ha avuto qualche trauma, ma comunque noi abbiamo già fatto consulenza e Rodolfa mi ha comunicato tutto ciò che è la sua persona. Quindi i suoi gusti personali, il modo in cui lei quotidianamente si trucca. Adesso Rodolfa esprimi agli spettatori i tuoi gusti personali. Perfetto, adesso andiamo a stendere con una Beauty Blender, questa qui è di Mesauda. Andremo a stendere il fondotinta, il fondotinta in questione è lo Studio Fix di MAC. Andiamo a stenderlo su tutto il viso e anche sul collo. Grazie. 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 Perfetto. Una volta steso il nostro fondotinta e aver settato con la cipria, la nostra Rodolfa è una base perfetta, una tela, oserei dire, per andare a ricreare il nostro make-up. Rodolfa, come ti senti? Adoro questa ragazza, è sempre così espressiva. Adesso proseguiamo con le sopracciglia. Perfetto, sopracciglia fatte. Guardate che Instagram Browse sono davvero davvero on fleek. Cioè, ragazzi, dove trovate una persona che vi fa delle sopracciglia più belle. Anche Rodolfa mi ha detto, anzi puoi dirlo anche a loro, che sono stupende. Lei stessa non riesce a fare le sopracciglia così. Vuoi dire qualcosa in merito? Perfetto, direi che è stata molto espressiva. Noi adesso continuiamo con il make-up okey. Andiamo a fare un qualcosa di molto bold perché lei è una ragazza così, è una ragazza un po' sopra le righe, un po' alternativa, molto eccentrica. Infatti possiamo notare già dal colore di capelli che la ragazza sa il fatto suo e vuole, vuole farsi e mostrarsi al mondo per quella che è realmente, ragazzi. Basta, basta nascondersi dietro delle maschere. Perfetto, adesso andremo a prendere questa palettina di Makeup Revolution Pro, questa qui è la Regeneration. Penso ci sia. Sì, la Regeneration. Apriamola e andiamo a prelevare un bel rosa fluo. Quindi prendiamo questo e Fearless e andiamo a tamponare sull'occhio della nostra Rodolfo. Andiamo a sfumare sempre con lo stesso rosa. Adesso prendo un viola, un colore un po' più scuro e spento, questo qui, e vado ad applicarlo nell'angolo esterno per poter sfumare il nostro ombretto. Sempre con lo stesso pennello. Una volta creata la nostra bellissima sfumatura, passiamo all'altro occhio e poi prelevando un po' di bianco andiamo a sfumare, sfumare, sfumare. Il segreto per un'ottima sfumatura dell'ombretto è andare a prendere un colore più chiaro, in questo caso il bianco, questo qui, vi faccio vedere subito. E andare a sfumare con un pennello da sfumatura per una sfumatura impeccabile. Top ragazzi, eccoci qua. Dopo aver applicato il nostro ombretto andremo a mettere una bella riga di eyeliner perché lei è abituata, e aveva un'idea, a mettere l'eyeliner giusto Rodolfo? Perfetto, andremo a mettere la nostra bellissima riga di eyeliner, una bella riga di eyeliner molto ampia, molto spessa e profonda perché è abituata a portarlo così. E, ripeto, è una ragazza molto eccentrica e di molte parole, quindi ha bisogno di un look come la sua personalità. Perfetto, una volta applicato anche l'eyeliner, il make-up sembra essere sempre più completo. Adesso proseguiamo con contouring, blush e illuminante e ci rivediamo subito. Perfetto, una volta applicato anche l'illuminante, che brillà più del mio futuro, noi andiamo ad applicare le ciglia finte, il rossetto, e ci vediamo alla fine del video, nel momento Instagram sassi, nel momento menoso che lei voleva assolutamente fare. Non poteva mancare Rodolfa nel momento menoso perché lei sa farci, sa farci ragazzi e adesso ve lo dimostreremo. Eccoci qui giunti alla fine di questo video. Alla fine abbiamo scelto per un paio di ciglia finte molto molto extra, come potete ben vedere. Abbiamo scelto una tinta labbra matte, molto 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 bella e rossa. E nulla ragazzi, ho ridato vita ad una mia cara amica, a colei che mi completa le giornate, e che mi sa ascoltare, veramente la voglio ringraziare di cuore per essere semplicemente quello che è lei. E nulla, l'ho semplicemente aiutata a riprendersi dopo una serata brava, dove ho fatto un po' la cattiva ragazza, insomma. Infatti avete visto le sue condizioni, adesso si sente un po' meglio, può affrontare la giornata diversamente. Se vi va, fatemelo sapere qui giù nei commenti, lasciando un like al video, e sotto nei commenti fatemi sapere se volete anche vedere il cambio look dei capelli, insomma. Perché con questa acconciatura, con questa piega, appena uscita da un rave, quindi è un po' così, un po' spettinata, un po' brutta, lei condivide e non vede l'ora di poter sistemare anche i capelli. Fatemi sapere quindi nei commenti se volete vedere altri video insieme a Rodolfa, lei sarà molto, molto contenta di partecipare qui negli studios di casa mia. Rodolfa, hai qualcosa da dire? Perfetto, è un tesoro. Io ti ringrazio per aver partecipato al mio video. E nulla ragazzi, noi vi salutiamo e ci rivediamo presto in un prossimo video. Saluta!